Si intensifica l'anticiclone africano denominato Cerbero, temperature in costante aumento in tutta Italia ed in particolare nel centro-sud. Le giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio saranno le più difficili con il grande caldo che metterà a rischio anche la salute della popolazione più fragile. Saranno giorni caratterizzati da una massa di aria rovente in espansione da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale. La Puglia è tra le regioni italiane più a rischio con temperature che in diversi punti ha già toccato i 40 gradi soprattutto nella zona del Foggiano. Mercoledì il caldo aumenterà ancora e la soglia dei 40 gradi verrà superata da Sardegna e Puglia temperature che resteranno particolarmente alte anche durante le ore serali e notturne. Stessa condizione per le località marittime. Ancora secondo le previsioni si intensificheranno a faumidità specialmente nei centri urbani massima allerta per i soggetti più fragili le temperature in arrivo potrebbero creare un forte disagio fisico. La raccomandazione è quella di evitare l'esposizione al sole soprattutto durante le ore di punta, bere acqua non ghiacciata, indossare indumenti leggeri, proteggere gli occhi e coprirsi il capo. La morsa del caldo si allenterà leggermente tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio per poi tornare ad intensificarsi nel weekend. L'estate è torrida e ufficialmente iniziata.